Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Marcato un maltempo nella giornata di giovedì su parte della Liguria, transiterà dunque una veloce perturbazione che porterà fenomeni localmente intensi sulle vante ligure con rischio criticità idrogeologiche ed idrauliche. Ma andiamo dunque nel dettaglio per quanto riguarda la provincia di Imperia. Avremo una giornata parzialmente soleggiata con al più qualche locale goccia di pioggia nelle aree interne, specialmente nelle prime ore del mattino. Così come anche per quanto riguarda la provincia di Savona, avremo qualche locale piovasco nella prima parte della giornata, sia nelle aree interne che localmente sulle zone costiere. Contesto climatico che si manterrà soleggiato, ma sarà una giornata particolarmente ventosa. Per quanto riguarda dunque la provincia di Genova, qui avremo un maltempo marcato con fenomeni localmente intensi e temporali molto abbondanti, forti raffiche di vento con mare molto mosso o localmente agitato. Nessun cambiamento poi per quanto riguarda il Tigulio. Anche in questa zona i fenomeni staranno abbondanti con venti a tratti sostenuti e con valori massimi che non andranno oltre i 22 gradi. Rovesci di pioggia diffusi nella prima parte della giornata, anche sullo spezzino, tempo che poi andrà gradualmente migliorando. Torneranno ampi spazi assolati nella giornata di venerdì su tutta la Liguria. Contesto dunque di assoluta stabilità atmosferica, con temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.